E' iniziato venerdì sera nella sala espositiva delle bare Sita in via Napoleone Colaianni la seconda edizione del festival Fra le bare in preghiera. La rassegna inaugurata nel 2023 dall'associazione Giovedì Santo in collaborazione con il vescovo di Calfanissetta Mario Russotto. Venerdì sera il palco è stato illuminato dalla rappresentazione intitolata 33 anni. Il delicato timbro della celebre cantautrice siciliana Francesco Incudine ha creato un'atmosfera unica capace di incantare l'intero pubblico presente. Il cast, composto da volti noti e meno noti del panorama teatrale nisseno ha ospitato inoltre la straordinaria partecipazione di Diabate Bangli talentuoso artista guineano che ha interpretato il ruolo di San Giovanni. La regia dello spettacolo è stata diretta dal nisseno Francesco Daniele Miceli mentre la direzione musicale è stata curata dal maestro Corrado Sillitti. Le coreografie della rappresentazione sono state curate dalla maestra Francesca Gallina. Il secondo appuntamento della rassegna fra le varie in preghiera sarà venerdì 23 febbraio con il gruppo teatrale Mete Noite con la rappresentazione dello spettacolo Io Cero con la partecipazione straordinaria dell'attrice catanese Lucia Sardo. Gli altri appuntamenti previsti sono il primo marzo con la commedia musicale Alesso, l'uomo che inventò le varie, con la partecipazione dell'attore nisseno Giorgio Villa, il 3 marzo con l'esibizione del corpo bandistico musicale Giuseppe Verdi in Ad Iudicum, rassegna musicale della Settimana Santa, e per concludere l'8 marzo con lo spettacolo teatrale Donne con l'attrice nissena Ilenia Giammusso.